Uno straniero entra nell'ufficio postale di Viale Roma, a Vicenza, e lamenta di avere problemi di ricezione con il proprio smartphone gestito da poste mobile. Per questo pretende che gli addetti dell'ufficio postale glielo sistemino. La risposta è che no, non è possibile, bisogna rivolgersi a un centro di telefonia specializzato, ma l'uomo non sente ragioni e insiste, alza la voce e a quel punto viene allertata la polizia. Gli agenti delle volanti arrivano sul posto, gli chiedono i suoi documenti, per tutta risposta ricevono un permesso di soggiorno scaduto, ma il tema per lui è sempre lo stesso, torna a chiedere che gli venga riparato il telefono, poi spinge gli agenti per aprirsi un varco e fugge sulla strada. I poliziotti lo inseguono fino a Corso Santi Felice Fortunato, dove l'uomo braccato spinge ancora gli agenti per divincolarsi. Portato in questura per l'identificazione emerge che è un 29enne del Gambia, con svariati precedenti per droga e per reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, ma vive in un altro comune. Il questore ha così firmato un foglio di via da Vicenza con divieto di tornarci per tre anni.